Paolo Gervasi, si chiude l'esperienza di Loanoi, inizia quella di Nuova Grande Loano, cosa ha spinto ad accettare questo nuovo percorso? Più che chiudere diciamo che parliamo in qualche maniera di continuità perché siamo sempre nel campo delle liste civiche, era una lista civica Loanoi e una lista civica Nuova Grande Loanoi, nella quale Loanoi ha svolto un ruolo importante nella formazione e nel coagulare quelle che erano le visioni amministrative dell'Arona del Futuro che sono andate a concidere con quelle degli amici dell'altra parte di minoranza che ha lavorato con noi questi cinque anni in Consiglio Comunale, nonché quella parte, chiamiamola di minoranza e maggioranza che poi ha rappresentato il gruppo misto che si è staccato. Quindi diciamo che si può parlare di continuità di un lavoro iniziato parecchi mesi fa e che ha trovato poi sotto la guida esperta e decisa di Jimmy Piccinini il suo apice e la nascita quindi finalmente di questo importante progetto che è una visione di Loanoi del tutto nuova e innovativa rispetto a quelle che sono le esperienze che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa. A proposito di continuità, l'idea è quella di proseguire il lavoro degli ultimi cinque anni? Certo, se prendete in mano il nostro programma elettorale trovate in esso molti aspetti oggi che sono stati considerati sviscerati e che hanno rappresentato punti salienti della nostra attività di minoranza, nel senso che abbiamo trattato tutti gli argomenti che oggi cerchiamo di riproporre alla cittadinanza in maniera più concreta e anche reputista della realizzabilità. Parliamo di rifiuti, di cultura, di sport, di ambiente, di commercio. Potremmo ridurre e descrivere in maniera basica il tutto in una sorta di concetto di ridare e decoro alla nostra città sotto ogni punto di vista. In particolare uno degli aspetti, qua siamo nel cosiddetto salotto di Loano, il centro storico, ma questo vale anche per le altre zone della città, è quello di ridare anche un decoro alle attività commerciali, uno sviluppo, un impulso. Cosa che abbiamo fatto in tutti questi cinque anni rimandendo spesso inascoltati. Adesso in questi giorni leggiamo che la lista antagonista finalmente ha preso coscienza di quelle che erano state le nostre istanze e in qualche maniera, diciamo, tra virgolette, ha un po' scopiazzato quello che è il nostro programma, che è un programma che non nasce oggi in maniera estemporanea, ma è nato in questi anni di minoranza e adesso si spera che dopo il 4 ottobre possa avere una concreta attuazione da chi comunque ci ha sempre aggreduto e non lo usa oggi come strumento di convenienza di carattere prettamente politico. Grazie